Musica Strano ma vero, siamo al tiro a volo e da circa 3 ore una donna, Angela, una principiante che spara da pochi giorni, 5, 6, 5, bene, spara da 5 giorni e come si può definire il suo stile personalissimo? Pensa che Angela possa battere il suo campione? Quando il cool con l'abilità contrasta, vince il cool, l'abilità non basta. Ecco il campione che sta andando al tiro, sembra... Il momento è delicato, ora il primo che sbaglia perde. Un bel cazzo, quella cosa stavo per pestare. Questo si che stano. Grazie per l'assujo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao!